è il primo novembre 1997 e ci troviamo a brindisi l'orologio segna le 18 e 50 quando alex rossi un assicuratore rincasa e trova sua figlia riversa in un lago di sangue quindi chiama l'ambulanza subito intervengono i carabinieri che arrivano all'ingresso di un villino elegante entrano e si dirigono in basso verso la tavernetta dove è presente un piccolo cucinino è lì che giace il corpo senza vita di carlotta di 27 anni gli inquirenti notano immediatamente che quella stanziata davanti ai loro occhi è una scena del delitto anomala il cadavere di carlotta si colloca nel seminterrato non si evidenzia alcun segno di effrazione sulla porta e per di più le finestre sono sbarrate protette dalle inferiate inoltre la casa risulta in perfetto ordine niente fuori posto di conseguenza la pista della rapina non viene presa in considerazione nonostante il pregio indiscusso della dimora e le agiate possibilità economiche della famiglia che la abita a scartare la pista della rapina e anche la presenza del cane di famiglia che si aggirava sempre nel giardino e mostrava un temperamento aggressivo di certo un ipotetico ladro avrebbe prima dovuto superare questo ostacolo insomma è impossibile che un intruso abbia avuto accesso all'interno senza problemi il corpo di carlotta si presenta disteso sul pavimento adagiato sul fianco destro il capo è verso la porta d'ingresso e il viso affonda in una pozza di sangue è evidente che sia stata uccisa da alcuni colpi di arma da fuoco gli inquirenti giungono a una deduzione immediata carlotta ha aperto la porta al suo assassino chiunque gli sia eppure l'omicida era in possesso delle chiavi per accedere alla villa la domanda è inevitabile chi poteva odiare tanto ferocemente carlotta da ucciderla e ancora quale segreto poteva nascondersi nella vita di una ragazza appartenente a una buona famiglia un segreto tale da provocarne il delitto gli inquirenti indagano cercando di cogliere eventuali ombre che aleggiavano nella vita di carlotta cipio hanno conferma che la ragazza conduceva una vita tranquilla passava la maggior parte del tempo in famiglia aveva concluso le scuole dell'obbligo e conseguito un diploma da infermiera tutto nella norma carlotta abitava con suo padre alex e sua mamma tatiana in quella villa del complesso residenziale verdeggiada situato nel cuore della brindisi alto borghese neville suo fratello gemello al momento del delitto era lontano da casa perché si trovava a beirut nel libano dove svolgeva la professione di pilota di elicotteri carlotta aveva anche una sorellastra di nome barbara già sposata nata dal primo matrimonio di sua madre con un ingegnere petrolchimico sergio gori tatiana aveva poi lasciato sergio per iniziare una relazione con alex rossi quel pomeriggio del primo novembre 1997 carlotta era in casa da sola sua madre era uscita intorno alle 16 diretta al circolo del tennis mentre il padre alex era andato via intorno alle 17 per poi fare ritorno verso le 18 e 50 e proprio riguardo al padre di carlotta che gli inquirenti ravvisano un'ulteriore stranezza alex che ha ritrovato il cadavere della figlia non manifesta emozioni risulta estraneo a qualsiasi coinvolgimento emotivo anzi mentre gli inquirenti indagano in casa con il corpo di carlotta disteso sul pavimento insanguinato lui sembra interessato a tutt'altro ossia cerche delle medicine da dare alla sua vicina di casa ma soprattutto agli inquirenti stupisce che il corpo di carlotta non sia mai stato spostato o anche soltanto toccato d'altronde era stato pur sempre un genitore a trovarsi davanti a quello scenario terribile e uno slancio dettato dalla disperazione sarebbe parso plausibile ma magari alex era riuscito a tenere i nervi saldi a non farsi sopraffare dall'emozione sì è una visione che può configurarsi come probabile anche se la sua freddezza risulta strana è pur vero attenzione che ognuno ha il suo modo di reagire dinanzi agli eventi drammatici c'è chi manifesta liberamente il dolore e chi rimane impietrito incapace di reagire però pur ammettendo che alex rientri in questa seconda categoria sorprende che si sia messo a cercare quelle medicine da dare alla vicina di casa tuttavia è chiaro queste informazioni non bastano per classificarlo come il colpevole e infatti le indagini proseguono alex viene sentito dagli inquirenti e riferisce che il giorno prima era stato al poligono e aveva sparato con la rivoltella dunque se l'uomo fosse stato sottoposto a un esame per la rilevazione dei residui della polvere da sparo sarebbe risultato positivo in ogni caso che fosse o meno l'assassino di carlotta certo è anche vero che esistono le coincidenze ma dinanzi a un delitto simile una tale coincidenza può essere più che mai rivelatrice gli inquirenti mantengono ferma la lente d'ingrandimento su alex rossi i carabinieri e il pm lo interrogano per tutta la notte tra il primo e il 2 novembre alex rossi deve ricostruire come aveva trascorso il pomeriggio dell'elitto e racconta agli inquirenti che aveva lasciato carlotta sola in casa e dopo aver portato il cane nel giardino intorno alle 17 circa era uscito dalla villa per parcheggiare la macchina lontano dalla propria abitazione ma perché beh perché pochi giorni prima aveva subito un'intimidazione proprio sotto casa qualcuno gli aveva sparato tre proiettili sulla portiera dell'auto sulla via del ritorno era entrato in chiesa per la celebrazione del rito di ogni santi dopo la funzione si era fermato al bar la capannina per bere un caffè insieme a un conoscente successivamente aveva preso al volo un autobus che l'aveva lasciato poco lontano da casa quindi aveva raggiunto la villa a piedi al suo rientro sostiene la villa era al buio perché mancava la corrente alex quindi aveva riattivato l'interruttore generale e la televisione si era accesa a tutto volume il cane gli era andato incontro scendendo dal piano superiore alex infine si era diretto nel seminterrato e aveva trovato sua figlia carlotta riversa a terra il suo corpo non dava segni di vita così lui aveva chiamato il 112 a questo punto gli inquirenti devono verificare gli spostamenti di alex sarà stato sincero beh le dichiarazioni di alex rossi ahimè non trovano riscontro nel pomeriggio nessuno l'aveva visto in chiesa e in seguito i familiari preciseranno che alex è ateo l'amico da lui indicato con cui avrebbe bevuto un caffè al bar la capannina non ricorda nemmeno di averlo visto figuriamoci se aveva preso una consumazione con lui ma soprattutto emerge che alex rossi una volta tornato a casa quel tardo pomeriggio aveva chiesto al guardiano del complesso che ora fosse un gesto che di primo acchitto potrebbe non avere valenza ma che secondo gli inquirenti sottintende un fine ben preciso in questo modo alex rossi si era assicurato un testimone utile a creargli l'alibi siccome il portiere poteva confermare che nell'arco di tempo che incrociava il delitto lui non era in casa questo per gli inquirenti basta e avanza ecco perché a poche ore dall'interrogatorio alex rossi viene formalmente indagato quindi riceve l'avviso di garanzia l'autopsia sul corpo di carlotta si rende poi fondamentale per delineare la dinamica dei fatti dunque quali potrebbero essere stati i movimenti dell'aggressore e della vittima ecco la ricostruzione carlotta sta entrando nella cucina della tavernetta cammina tranquillamente e volge le spalle all'aggressore però si accorge che un atto a suo danno sta per essere compiuto carlotta presenta una lesione alla scapola destra che corrisponde al primo colpo di pistola sparato il secondo colpo è immediato questa volta carlotta è leggermente spostata verso destra l'aggressore continua a essere alle sue spalle infatti la radice del braccio destro e la zona del seno appena sotto l'ascella mostrano che il colpo di pistola in questo caso l'ha colpita soltanto di striscio quindi carlotta si gira per capire cosa stia succedendo a questo punto prova a scappare dalla cucina ma scivola per terra l'aggressore ne approfitta ed esplode il terzo proiettile quello mortale che penetra nel cranio il decesso della ragazza è avvenuto tra le 16 e le 17 va segnalato che carlotta ha ricevuto tre colpi di pistola sparati da una revolver calibro 38 special quindi non è stata uccisa da un'arma silenziosa dunque come è possibile che nessuno abbia sentito dei rumori il medico legale propende per due ipotesi principali la prima è che siccome i proiettili erano di marca gevelot delle munizioni che da molti anni non venivano più prodotte dal punto di vista dell'efficienza erano deteriorate per questo motivo la forza di penetrazione e di scoppio risultava notevolmente inferiore l'altra ipotesi che fosse stato interposto un mezzo come un cuscino per attutire l'esplosione dei colpi ma la domanda che più esige risposta è quale sarebbe il movente per questo delitto perché un padre dovrebbe freddare la propria figlia soprattutto beh prima di analizzare il movente è necessario inquadrare alex rossi chi è lui esattamente alex rossi è laureato in scienze politiche negli anni 70 era proprietario di una gioielleria nel centro di brindisi e la sua attività è legata a un evento di cronaca misterioso quanto tragico il 10 febbraio del 1971 quando alex aveva 31 anni insieme al suo campionario di preziosi era sparito nel nulla un rappresentante di gioielli di barletta suo coetaneo antonio mascellaro il giovane scomparso era estremamente onesto e prendeva seriamente la sua professione passano pochi giorni e l'auto di antonio mascellaro viene ritrovata a lecce tuttavia dell'uomo e del suo prezioso campionario non ci sono tracce si rilevano però delle tracce di sangue nel bagagliaio della sua macchina sapete prima di morire dove era stato antonio mascellaro chi aveva incontrato ebbene il giorno della scomparsa antonio era stato convocato proprio da alex rossi nel suo negozio dove lo avrebbe rifornito di nuovi gioielli quindi l'ultima persona ad aver visto antonio in vita prima che di lui si perdesse ogni traccia era stato proprio alex rossi alex era diventato il maggiore indiziato per questa scomparsa ma poi era stato prosciolto per mancanza di prove a suo carico ma si sa quando accadono fatti del genere la gente si fa una propria idea sul colpevole e mormora dunque l'ombra del sospetto era rimasta proiettata su alex come se questa infelice vicenda non fosse già abbastanza appena un anno dopo si era verificato un altro episodio alquanto singolare alex aveva denunciato un ingente furto commesso nella sua gioielleria ma agli occhi degli inquirenti il fatto risultava anomalo tanto che l'uomo era stato indagato per truffa e simulazione di reato tuttavia alex rossi era riuscito a sottrarsi anche da questa accusa e da ogni colpa quindi era stato scagionato l'uomo a questo punto aveva deciso di chiudere la gioielleria e di cambiare totalmente attività a distanza di qualche anno infatti aveva aperto un'agenzia di assicurazioni legata a una prestigiosa compagnia nel centro di brindisi nel frattempo anche la vita sentimentale di alex era mutata in quanto si era legato sentimentalmente a tatiana albertini tra di loro era scoppiato un grande amore tanto che tatiana aveva lasciato suo marito l'ingegnere petrolchimico sergio gori proprio per stare con alex dalla loro unione erano nati due gemelli neville e carlotta ma se pensate che le ombre calate su alex rossi siano finite vi sbagliate perché l'uomo col tempo aveva sviluppato un comportamento allarmante verso sua moglie lui stesso si identificava come un marito padrone e non solo arrivava a dire di averla schiavizzata in realtà di momenti felici alex e tatiana li avevano vissuti la loro storia non era certo iniziata con questa dinamica i due erano affiatati e si amavano molto ma questo trasporto questo sentimento si era esaurito in cinque anni a causa di una scenata di gelosia di alex prepotente e immotivata e da quel momento tatiana si era allontanata era diventata fredda è chiaro che il rapporto idilliaco che vi ho descritto poco fa si era frantumato con i figli invece la situazione è un po diversa carlotta da piccola era la cocca di papà veniva coccolata e seguita anche perché per alex rappresentava la figlia modello poi però questa figlia modello viene bocciata in terza media soprattutto carlotta inizia a fumare e non parlo di sigarette fino a entrare nel vortice della dipendenza prova a smettere più volte ma purtroppo non riesce a liberarsi da queste catene che la condannano a una ricerca perenne della sostanza dei soldi dei gioielli da vendere per procurarsi altri soldi così alex che aveva puntato tutto su sua figlia le volta le spalle e arriva a definirla con un termine tremendo ossia un cancro il rapporto tra alex e carlotta diventa sempre più conflittuale e violento la ragazza ha uno stile di vita insano sta via tutta la notte rientra all'alba e poi dorme tutto il giorno alex ammette che minacciava e picchiava sua figlia arriva infine a dirle che se lei non si fosse messa sulla buona strada l'avrebbe ammazzata lui stesso l'uomo ha una teoria tutta sua su il motivo per cui carlotta era caduta in quello scuro vortice era complessata a causa del suo aspetto fisico dice che sua figlia era bruttina e si sentiva inferiore nei confronti degli altri eppure da ciò che risulta carlotta amava suo padre più di chiunque altro al mondo come tanti altri genitori alex era sicuramente molto attento alla formazione dei figli fino a commettere un grave errore esigeva che loro imboccassero il percorso tracciato da lui basato sul progetto di vita che aveva ideato per il loro futuro anche neville il gemello di carlotta si era scontrato con il volere del padre che aveva smesso di parlargli per ben due anni siccome il figlio aveva lasciato l'accademia dell'aeronautica dove è riscritto ovviamente per volere di alex neville però ha un carattere più forte di carlotta ed era riuscito a liberarsi dallo stringente controllo paterno tatiana e i suoi figli sostengono che i complessi gli errori e il crollo di carlotta in realtà sono colpa di alex che col suo atteggiamento di padre padrone e la sua personalità schiacciante l'aveva addirittura fatta cadere nell'abisso della dipendenza carlotta era entrata in comunità nel 1993 e ne era uscita nel 1995 a casa era tornata pulita anche se era già psicologicamente segnata con l'aiuto dei familiari soprattutto quello di suo fratello neville carlotta provava disperatamente a ritrovare un equilibrio nello studio negli amici nel lavoro aveva conseguito il diploma di infermiera e pur di mantenersi impegnata aveva accettato di svolgere anche lavori modesti fino a poco prima dell'omicidio carlotta lavorava come infermiera in uno stabilimento balneare i suoi amici dopo il delitto la definiscono una ragazza che era ancora instabile soprattutto insicura e questa instabilità si rifletteva anche sulle sue scelte sentimentali carlotta infatti si era legata a persone problematiche inadeguate l'ultima relazione l'aveva avuta con un uomo sposato padre di tre figli sia loro che la moglie avevano tempestato carlotta di telefonate per convincerla a lasciare in pace il proprio padre e marito e quindi a chiudere la relazione prima del delitto carlotta era piombata nell'angoscia più profonda si era chiuse in se stessa aveva lasciato il lavoro non usciva quasi mai di casa ma soprattutto sosteneva di sentire voci e suoni di campanelli era in trappola ossessionata da incubi oscuri sempre spaventata e parlava delle sue paure anche alla madre e alla sorella la domanda qui sorge spontanea di che cosa oppure di chi aveva paura carlotta forse temeva suo padre a questo punto alex rossi che comincia a sentirsi in trappola fornisce lui stesso agli inquirenti altre piste da seguire per sviare le indagini chiaramente durante un ennesimo interrogatorio racconta che carlotta aveva questa storia con un uomo sposato e che la figlia e la moglie dell'amante la minacciavano con diverse telefonate gli inquirenti però effettuano le loro verifiche le telefonate sì c'erano state ma non avevano un tono minaccioso madre e figlia non avevano mai detto a carlotta lascialo oppure ti ammazziamo o le avevano rivolto intimidazioni del genere ma non è finita qui perché alex rossi avanza l'ipotesi di un possibile omicidio legato al mondo delle sostanze visto che carlotta nera dipendente forse erano stati dei tossicodipendenti a ucciderla ma per quale ragione per tenere in piedi questa versione alex suggerisce che sua figlia possa essere stata vittima di uno spacciatore magari agganciato alla mafia tuttavia come detto carlotta aveva smesso da un po di fare uso di sostanze quindi si era allontanata da quel contesto infine non frequentava gli ambienti della criminalità organizzata aderiti al traffico di stupefacenti dunque ora torniamo al movente perché mai alex rossi avrebbe sparato contro sua figlia per ben tre volte gli inquirenti che hanno scoperto le varie ombre sul passato di alex rossi ora stanno passando in rassegna ogni aspetto della sua vita indagando nello specifico sulla sua situazione finanziaria e sul volume dei suoi affari la sua agenzia di assicurazioni fronteggiava dei problemi oppure godeva di un buon giro di clienti dal controllo effettuato delle difficoltà emergono anzi gli affari andavano proprio male infatti pochi mesi prima del delitto di carlotta alex rossi aveva avuto un richiamo ufficiale dalla compagnia della quale era agente risultava un'irregolarità di gestione che poi viene quantificata in 11 milioni di lire la cifra è troppo esigua per parlare di banca rotta ma gli inquirenti scoprono che per saldare il debito con la compagnia alex aveva chiesto in prestito 20 milioni di lire a suo figlio neville gli investigatori apprendono anche che contrarre debiti non è una novità per alex rossi infatti già in passato era ricorso ai prestiti della figliastra barbara fatto confermato da lei durante il processo appurato che gli affari di alex non vanno a gonfie vele e di certo questa situazione è fonte di preoccupazioni può sussistere un legame con la morte di carlotta dalle prime indagini sembra di no ma scavando più a fondo ecco che emerge il ricercato movente innanzitutto alex rossi aveva provveduto a stipulare delle pollizze sulla vita come copertura per se stesso e per tutta la famiglia con particolare riferimento alla figlia tra il 1995 e il 1996 alex aveva stipulato due pollizze sulla vita delle quali erano beneficiari lui e sua moglie tatiana se carlotta fosse morta l'assicurazione avrebbe liquidato ad alex e tatiana un indennizzo del valore di 750 milioni di lire possibile che un padre per quanto burbero e freddo avesse ucciso sua figlia per incassare i soldi dell'assicurazione per gli inquirenti più che possibile è assolutamente vero il movente si è rivelato alex rossi uccidendo carlotta non si sarebbe soltanto liberato di una figlia che ormai non tollerava più ma avrebbe anche guadagnato una cospicua somma di denaro che soprattutto gli serviva per rimediare al disastro economico nel quale stava arrancando cioè nonostante l'indagato nega le difficoltà economiche che secondo gli inquirenti lo avevano portato a compiere un gesto così atroce eppure le forze dell'ordine portano alla luce altri punti oscuri siamo nel 1996 un anno prima dell'omicidio di carlotta alex guida la sua auto con a bordo la figlia viaggia sulla strada provinciale per vieste lungo una curva la macchina va fuori strada mentre alex riesce a lanciarsi fuori dal veicolo carlotta bloccata dalla cintura di sicurezza si avvicina pericolosamente a un burrone per fortuna la tragedia è soltanto sfiorata l'auto si blocca perché va a sbattere contro un albero a questo punto c'è da chiedersi si era trattato di un incidente oppure alex rossi aveva già cercato di liberarsi di sua figlia il caso in effetti era stato archiviato come incidente anche se all'epoca le forze dell'ordine avevano ravvisato qualche anomalia nella dinamica del sinistro ecco perché dopo il delitto di carlotta si recuperano le memorie dell'accaduto e lampeggia con urgenza l'interrogativo appena esposto incidente o tentato omicidio ma non è finita qui perché altri episodi inquietanti scandiscono i mesi che precedono l'omicidio di carlotta ad agosto ossia quattro mesi prima del delitto alex rossi denuncia ai carabinieri un furto avvenuto nella sua agenzia di assicurazioni dei ladri hanno rubato una collezione di statuine d'argento 850 mila lire in contanti e soprattutto forzando un cassetto gli avevano sottratto una pistola tamburo calibro 38 special marcata amadeo rossi un mese prima del delitto a ottobre alex denuncia invece di aver subito un danneggiamento alla sua macchina durante la notte come accennato prima qualcuno aveva sparato tre proiettili sulla portiera dell'auto parcheggiata proprio sotto casa se ricordate alex rossi a seguito della morte di carlotta riferisce alla polizia che nel pomeriggio del primo novembre aveva spostato la macchina parcheggiandola più lontano proprio a seguito di questo danno cosa poteva rappresentare una minaccia un avvertimento a lui rivolto infine dieci giorni prima del delitto quindi ancora a ottobre alex rossi denuncia di aver ricevuto tramite posta una lettera indirizzata alla sua agenzia e contenente due cartucce per pistola calibro 38 in occasione della denuncia alex rossi afferma che una banda di estorsori lo tartassa da due anni inizialmente gli avevano imposto di pagare una quota mensile di 500 mila lire ma quel tempo erano arrivati a chiedergli due milioni di lire alex rossi motiva l'aver taciuto a lungo questa situazione a causa delle minacce rivolti a lui e ai suoi familiari ma in quale ottica questa estorsione si collegherebbe al delitto di carlotta alex rossi pur ribadendo che questi estorsori lo bersagliano e dicendosi incapace di gestire la situazione non vuole che la polizia indaghi o meglio non vuole che i telefoni vengano messi sotto controllo né che avvengano pedinamenti allo scopo di beccare i malfattori che però a detta sua non lo fanno più vivere serenamente alex quindi prima sottolinea le sue difficoltà agli inquirenti poi minimizza ritiene che gli estorsori non si faranno più vivi ma come fa a esserne certo è in contatto con loro perché il punto di vista di alex cambia drasticamente quando gli investigatori si offrono di aiutarlo con i mezzi che hanno a disposizione gli inquirenti nel tentativo di identificare questi soggetti gli mostrano delle foto ma pare che alex rossi abbia perso la memoria di colpo nonostante a detta sua abbia visto queste persone non se la sente di indicare nessuno meglio accantonare questa questione per lui riguardo al furto che alex avrebbe subito in agenzia l'attenzione si concentra sull'arma rubata dal cassetto una pistola tamburo 38 special acquistata molti anni prima e ormai fuori produzione le cartucce sottratte insieme alla pistola di marca gevelot sono anch'esse fuori dal commercio da tanto tempo se ricordate si tratta della stessa arma e degli stessi proiettili che hanno ammazzato proprio carlo tutte le prove portano dunque a suo padre forse alex rossi voleva far credere agli inquirenti che sua figlia fosse stata ammazzata da colui che gli aveva rubato pistola e cartucce ad agosto in ogni caso adesso anche i familiari di alex rossi si scagliano contro di lui il gemello di carlotta neville la mamma tatiana e la sorellastra barbara sono pronti ad accusare alex vi chiederete giustamente perché questa netta presa di posizione non è emersa prima considerate che neville quando carlotta muore si trova a beirut chiaramente appena prende la tragedia torna a casa ma ormai non ha avuto occasione di vedere suo padre subito dopo il delitto lo vede qualche giorno dopo e l'uomo che si trova davanti lo spiazza è soprattutto neville il quale era molto legato a sua sorella carlotta a dubitare del padre quando si decide a sporgere denuncia contro alex il ragazzo dice che il comportamento di suo padre subito dopo la morte di carlotta non l'aveva mai convinto alex era andato a prenderlo in aeroporto e aveva detto al figlio che non dovevano assolutamente parlare dell'omicidio né al telefono né a casa né in macchina quando neville aveva chiesto il motivo il padre aveva risposto potrebbero esserci delle micro spie e i telefoni potrebbero essere sotto controllo vero se è in corso un'indagine gli inquirenti piazzano delle micro spie e intercettano i telefoni delle persone interessate ma perché questo costituiva un problema per alex perché la polizia non poteva ascoltare le loro considerazioni su una simile tragedia più che parole di dolore gli inquirenti cosa avrebbero potuto udire alex rossi è drastico con il figlio e fa le stesse identiche raccomandazioni anche alla moglie tatiana se alex non è colpevole perché tutti devono tacere sulla morte di carlotta quanto a tatiana la donna viene a sapere che il marito è indagato immediatamente ma lei è succube di alex lui stesso lo ammetteva quindi è neville a prendere posizione pochi giorni dopo l'omicidio lo fa quando alex lo trascina in giardino perché il figlio ha smesso di rivolgergli parola così gli domanda se lo evita perché è convinto che sia stato lui a uccidere carlotta neville gli risponde tu pensi che io sia una persona intelligente inizia a maturare la certezza che sei stato tu ne sono quasi certo anzi non ho nessun dubbio che sei stato tu il contenuto della conversazione è chiaro così alex rossi fugge dalla situazione dicendo no basta basta non parliamone più neville smette del tutto di parlargli e lo evita durante le vacanze quando torna a casa dal libano va a stare dalla sua sorellastra tatiana invece continua a subire la prepotenza di alex sei mesi dopo l'omicidio per incassare i soldi dell'assicurazione accetta di firmare la richiesta della liquidazione che ammonta a 375 milioni di lire e che spetta a lei per aver stipulato la polizza sulla vita di carlotta suo marito non può farsi liquidare la somma a lui destinata proprio perché è indagato ma è alex rossi a richiedere i soldi liquidati a tatiana da usare per saldare qualche debito anche questa circostanza chiaramente risulta significativa per gli inquirenti visto che si svela il movente economico ma perché neville non ha ancora denunciato suo padre visto che già pochi giorni dopo il delitto pensava che fosse proprio lui il colpevole ebbene neville spiega che stava prendendo tempo soltanto perché temeva che sua madre non avrebbe sopportato un altro dolore così grande aveva paura che si togliesse la vita barbara invece testimonia di essere stata lei la prima a chiedere a sua madre di lasciare alex in quanto tatiana le aveva confidato a sei mesi dal delitto che il marito le aveva confessato di aver ucciso carlotta questo significa che tatiana sapeva già la verità ma l'aveva tacciuta dunque se ci sconvolge che un padre abbia ucciso sua figlia per soddisfare i propri interessi economici allo stesso modo è inevitabile chiedersi come abbia fatto una madre ad accettare di continuare a vivere con l'assassino di sua figlia la risposta è che tatiana era totalmente soggiogata e dopo la rivelazione del marito è rimasta annichilita sotto shock per mesi riesce a riprendersi soltanto perché i figli giorno dopo giorno la convincono a reagire ad affrancarsi da un uomo tanto terribile nell'agosto del 1998 cioè nove mesi dopo il delitto neville decide di ottenere giustizia per sua sorella dunque chiede alla madre un incontro lei in questa occasione gli conferma quelli che per lui fino a quel momento erano soltanto atroci dubbi sì era stato suo padre uccidere sua sorella l'aveva ammazzata solo e soltanto per salvarsi dalla bancarotta e i soldi dell'assicurazione serviranno anche a tatiana perché le garantiranno un futuro sereno alex aveva pronunciato esattamente questa frase l'ho uccisa perché ormai carlotta era lo sbando assolutamente ingovernabile e con lei la vita sarebbe stata un inferno dopo questo confronto neville e barbara decidono di denunciare alex spiegando tutta la vicenda al pubblico ministero di lì a poco anche tatiana conferma quanto dichiarato dai suoi due figli l'11 marzo del 1999 alex rossi viene arrestato per l'accusa è lui l'assassino di carlotta il 23 dicembre del 1999 alla corte di brindisi si apre il processo a suo carico alex rossi è condannato all'ergastoro e la pena viene confermata in appello lui si dichiara sempre innocente e durante la detenzione comincia a soffrire di anoressia nel luglio del 2019 lascia il carcere per essere ricoverato in una clinica di ostuni in regime di arresti domiciliari la notizia la dà proprio neville tramite il suo profilo facebook con un post carico di rabbia ma anche di timori è con le sue parole struggenti che concludo questo video penso che questo è il paese dell'assurdo dove tutto può accadere anche che un ergastolano che ha trucidato la figlia paghi l'ambulanza per andare a farsi visitare a bari dove un medico dichiara che le sue condizioni sono incompatibili con la condizione carceraria così sempre nell'assurdo di questo paese garantista e insensato rifiuta il ricovero a rebibbia ottiene il ricovero presso una clinica ostuni dove potrà vivere il resto degli anni che gli rimangono e morire con una dignità che non merita e che non ha concesso alla figlia chiaramente a me con la vita rovinata che l'ho accusato e ho speso soldi per fare in modo che non nuocesse a me e a nessun altro per avere giustizia e per sentirmi sicuro e vivere tranquillo non hanno detto nulla non sono stato invitato all'udienza per presentare eventuali rimostranze o richieste e così ora me lo ritrovo a pochi chilometri da casa e dalla mia vita presso una clinica agli arresti domiciliari senza una vigilanza adeguata vorrei ricordare al giudice che ha deciso che l'arma del delitto non è mai stata trovata e nemmeno parte dell'assicurazione che ha riscosso che è un mostro vendicativo senza cuore e sentimenti alimentato dal male posso vivere tranquillamente non credo io ho finito di parlare in questo video e questo caso onestamente mi ha messo addosso tantissima tristezza perché penso che sia terribile un caso del genere in cui un padre uccide una figlia per dei soldi cioè si parla di soldi e io di solito rimango un po' esterrefatta anche quando ci sono queste dinamiche ma magari tra amici tra conoscenti tra fidanzati tra marito e moglie figuriamoci tra un padre e una figlia quindi voglio sapere cosa ne pensate di questo caso che non è assolutamente recente ma che mi ha colpita molto quindi come al solito ci becchiamo qui sotto nei commenti io nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felice basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti